fine partita qui nel torneo di schiano abbiamo due protagonisti del match presentatevi federico luca la partita che sulla carta sembrava più facile eravate sul 4 a 2 se non sbaglio sembrava quasi fatta e poi siete riusciti a complicarvi la vita e poi all'ottine del rigore vi ha aiutato sì sono stati comunque molto bravi la squadra avversaria ci siamo fatti scappare quei due gol che ci hanno portato sul pareggio ma meno male grazie anche al portiere siamo riusciti a portarci a casa la partita e passare adesso arrivano due partite tost mercoledì c'è la semifinale non si sa ancora con chi lo sapete già e poi eventualmente lunedì o primo secondo terzo e quarto ma paura di nessuno oggi con la siga prossima volta ancora con la siga tranquilli senti questo torneo qui ha un po l'ambizione sai sono classici tornei che si fanno durante le preparazioni o appena l'inizio dei campionati magari aver giocato sabato in campionato però voi siete sempre pronti per questi match che vi rendono sempre protagonisti sicuramente aiuta l'età però ci si diverte sempre fare tornei serali a vincere le partite dai la cosa cosa stai giocando dove stai giocando quest'anno sto giocando al gazzada schiano sia io che il mio compare niente dai speriamo di fare anche un buon campionato e vincere se lo sbaglio la prima data bene giusto male data male male ma il mister adesso ci mette in carreggiata vi faccio tanti complimenti grazie per la vittoria di questa sera in buccalupo per mercoledì grazie 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 a tutti